ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale sono molto contenta oggi di girare questo video perché oltre a mostrarvi gli acquisti fatti sul sito perline fantasy dove ho approfittato della promo sulle spese di spedizione vi annuncerò per chi ancora non lo sapesse o per chi si fosse perso il video di cristina la mia collaborazione con perline fantasy appunto e di questa cosa sono davvero felicissima e non smetterò mai di ringraziare cristina per questa bellissima opportunità vi mostrerò anche i progetti che ho realizzato ovviamente uno di questi lo state già vedendo perché si tratta di questo anello realizzato con alcuni dei prodotti della parpuca ovvero le arcos le super cheops le tinos le rocaito 11 0 che mi sono servite per fare anche la fascetta e poi questo bracciale realizzato anche con le arcos le super cheops le tinos e in aggiunta le mino sei mezzi cristalli da 4 mm e come potete vedere le rocai 11 0 fanno un po un effetto 3d insieme alle super cheops troverete i kit dalla prossima settimana in vendita su perline fantasy è un mio video tutorial dove vi farò vedere come fare appunto sia questo bracciale che questo anello e mi auguro tanto che questi due progettini vi piacciono e che sarete in tanti ad acquistarlo quindi e mi raccomando tenete d'occhio il sito adesso vi farò un po rifare gli occhi con tutto quello che ho acquistato allora ci sono questo kit di cipollotti sono un mix di 15 fili e sono tante misure tanti colori davvero spettacolari adesso non li tolgo tutti perché sono tanti ma davvero bellissimi e convenienti anche poi ho acquistato faccio vedere subito allora queste super cheops jet queste super duo crystal bronze alluminium e le immancabili paisley nella colorazione polychrome mint chocolate e nella colorazione jet diciamo che d'estate mi sono più sbizzarrita con i colori ma adesso che viene l'inverno tendo ad usare colori un po più scuri poi ho acquistato anche queste perle in vetro sempre jet da 6 mm queste color grigio e poi queste della svarosky dark lapis sia da 4 mm che da 6 mm e poi siccome non l'aveva ancora provate ho acquistato le bola messicane e che si possono fare dei ciondoli per le donne in dolce attesa hanno questo sonaglio all'interno molto delicato e vi faccio vedere ho usato le acquistate sia dorata che grigia e sulla grigia ci ho già lavorato ho seguito un progetto di antonia pastore per le trottole ed è molto versatile perché sono riuscita anche a farle per le per la bola e devo dire che mi è piaciuto molto quello che ne è uscito e poi come omaggi è stata veramente una cosa fantastica abbiamo potuto scegliere noi tra prodotti della parpuca gli omaggi io ho scelto le arcos pastel light brown coco e poi le amos metallic matt beige e poi non me l'aspettavo proprio cristina ha mandato come omaggio anche questi perni ecco qui che sono davvero bellissimi e poi avevo dimenticato acquistato anche questo contenitore perché di contenitori davvero ne servono sempre a bizzef ci sono anche che avevo dimenticato i chiodini in argento ecco qui questo è quello che ho acquistato come sempre i pacchetti che arrivano da cristina arrivano proprio profumati al massimo che il profumo resta per giorni e giorni è veramente buonissimo e poi abbinato sempre ad una letterina e questa cosa mi piace veramente tantissimo cristina sa come emozionare e sono davvero felicissima di fare questa collaborazione con lei quindi vi ricordo tenete d'occhio il sito anche la sua pagina facebook ovviamente nell'info box troverete tutti i vari link utili perché dalla prossima settimana ci saranno i kit sia dell'anello che del bracciale io al momento vi saluto e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti